C'è preoccupazione per la risalita dei contagi, soprattutto dei ricoveri nei reparti Covid anche in provincia di Salerno. Attualmente 60 sono i pazienti ricoverati al Covid Hospital discafati tra reparto infettivi e broncopneumologia, ma il trend è in aumento, tanto che si sta lavorando all'apertura di un nuovo reparto all'interno del Mauro Scarlato per fronteggiare la situazione che potrebbe verificarsi tra ottobre e novembre, come conferma il primario di malattie infettive dell'ospedale di riferimento Mariano Corrado. Siamo in effetti, nel mio reparto, 19 ricoverati. Abbiamo un altro braccio aperto per quelli che sono in attesa di 29 tamponi negativi, quindi sono pazienti asintomaggi, non hanno bisogno di cure, che non possono andare a casa perché non hanno un isolamento domiciliare efficace, quindi per evitare i contagi li tratteniamo ancora noi qua. In pneumologia, il braccio di subintensiva, ci sono 16 pazienti ricoverati, altri 4 in rianimazione e qualcuno in pronto soccorso in attesa di essere ricoverato da noi. Abbiamo avuto di nuovo un incremento del numero di ricoverati, che in questo momento fortunatamente non hanno la stessa intensità, quindi la stessa clinica del periodo marzo-aprile. Quindi ci troviamo di fronte a pazienti che tutto sommato sanno discretamente, qualcuno ha bisogno di essere ventilato, nessuno in questo momento intubato. Abbiamo pazienti dializzati che vengono soprattutto da fuori provincia, perché siamo l'unico centro in Campania per dialisi covid positivi. Neanche il Cotugno in questo momento ricovera questi pazienti. L'età media, come dicevo prima il direttore, si è abbassata. In questo momento noi purtroppo siamo pronti ad affrontare l'autunno che è alle porte. E questo è quello che in ottobre-novembre sarà? In ottobre-novembre non perché lo dice il sottoscritto, ma anche l'Organizzazione Mondiale della Sanità è preoccupata perché sopraggiungerà l'influenza e quindi con l'influenza avremo sicuramente un incremento. Intanto è stato chiuso questa notte nuovamente il pronto soccorso dell'ospedale di Sarno, rimasto off-limits per l'intera mattinata, per l'arrivo di quattro casi sospetti nel corso della nottata appena trascorsa e che ora sono in attesa degli esiti dei tamponi, in quattro stanze adecenti al pronto soccorso stesso. Ad agosto infatti era stata decisa la chiusura del lobby multidisciplinare, giustificata dal regredire dell'emergenza covid. Forse bisognerebbe valutare in tempi rapidi anche una sua riapertura, considerata la nuova emergenza ormai alle porte, in modo da consentire il normale funzionamento del martiri di Villa Malta. Con il funzionamento del lobby si garantiva un percorso in sicurezza, dalla tenda direttamente al primo piano senza mettere a rischio la salute di altri pazienti o operatori sanitari. Intanto uno dei pazienti risultati, pazienti positivi a Sarno, è stato trasferito subito dopo l'esito del tampone e dopo 48 ore di attesa con ambulanza di biocontenimento al Cotugno di Napoli. Nove intanto sono i positivi di ieri refertati dall'ASL Salerno, due a Salerno Città, due ad Anghi, uno a Caselli in Pittari, uno a Campagna, uno a Eboli, uno a Nocera Inferiore ed uno a Serre. Grazie a tutti.